Anche il Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensiva presentata dalla Società Mobilità e Parcheggi contro il provvedimento con cui il Comune dell'Aquila l'11 aprile scorso ha revocato la concessione dei parcheggi di Colle Maggio e di quelli di tutto il territorio comunale alla MP. Da questo momento dunque comincerà l'iter di recupero di una delle strutture su cui l'amministrazione punta per riorganizzare la città in evoluzione continua in questi anni di ricostruzione post-sisma. Il Comune tornerà dunque in possesso della struttura ed è già al lavoro con una task force interna per trovare la quadra per la nuova gestione. Siamo al lavoro con una task force interna perché il Comune deve riprendere possesso della struttura. È stata già fissata la data del 22 luglio insieme all'MP per un primo incontro per redigere un verbale di consistenza dove saranno appunto elencate tutte le consegne che la società farà in capo al Comune. Il Megaparcheggio già è di proprietà della città, è la seconda infrastruttura strategica più importante insieme all'aeroporto. Rientra la gestione nelle mani del Comune che appunto sta lavorando in due fasi. Una prima fase di gestione provvisoria dove sarà coinvolta sicuramente Ama e forse anche altre società partecipate. E una seconda fase invece che è quella proprio dell'affidamento attraverso un bando a un soggetto terzo che prenderà in mano la gestione del Megaparcheggio e dei futuri parcheggi a raso che ribadisco saranno istituiti solo in periferia e in centro storico fin quando è in atto la ricostruzione parcheggi a pagamento non ci saranno. I parcheggi sono circa 700 e in più ci sono gli stalli degli autobus. Il primo passo è un intervento di manutenzione straordinaria sul tapirulana e anche interventi di restyling esterni ed interni. Abbiamo in mente di riorganizzare un po' tutta quanta la struttura e di renderla più vivibile, più confortevole. È una struttura che in realtà non è mai decollata. Come intende conciliare il Megaparcheggio poi con la gestione dei parcheggi in centro storico? Quindi come far comunicare questi due luoghi così distanti? Diciamo che il Megaparcheggio è una struttura a supporto del centro storico perché arrivare in centro storico attraverso il tapirulana direttamente a piazza Duomo a piedi senza diciamo solo con il tunnel ci vogliono circa sette minuti. In più c'è la navetta elettrica quindi questa sarà una dotazione di circa 700 parcheggi che noi metteremo a disposizione della città con tariffe sociali.